Manuel Scavone guida, Raffaele Bianco insegue e il Bari dei ripescati, quello di chi sembrava fuori dai giochi e invece ora è parte del gruppo di Mignani o lo sarà. L'esempio di Scavone, tornato in bianco rosso dall'annata in prestito a Pordenone dopo l'esperienza in Cine e la stagione 2019-20, e la plastica dimostrazione del fatto che un mercato bloccato per tutti offre possibilità a tanti. Da partente quasi assicurato si è ritrovato in tasca un contratto prolungato fino al 2023 con spalmatura dell'ingaggio e l'esperimento visto nel test contro l'Unione Calcio Bisceglie da trequartista in alcune fasi di gioco potrebbe portare Mignani a riproporlo a centrocampo dall'inizio sabato sera al San Nicola nella prima gara ufficiale di stagione in Coppa Italia contro la Fidelisandria. Classe 87 Scavone stesso anno di nascita di Raffaele Bianco, il centrocampista nato ad Aversa dovrebbe restare inorganico come alternativa nel ruolo di playmaker nel 4-3-1-2 casella in cui il Bari resta alla ricerca di un titolare. Bianco rispetterà così l'ultimo anno di contratto e non è da escludere che anche per lui si possa lavorare a un prolungamento con spalmatura dell'ingaggio. In bianco-rosso tra Serie B e Serie C, Bianco ha sin qui giocato 83 partite segnando un gol, quota 100 presenze, può essere allora un obiettivo realistico per lui. Chi invece cerca uno spazio che oggi le idee tattiche di Mignani non sembrano poterli garantire sulla trequarti dove il Bari dispone di Botta e Marras con Citro e Derrico e il neo-diciottenne Giovanni Mercurio finito nel mirino della Fiorentina per la formazione primavera. Nel post-ferragosto sono ripresi i contatti tra il club Viola e il Bari per mettere a punto la trattativa. L'ipotesi dell'accordo in via di definizione prevede un prestito oneroso con diritto di riscatto a una cifra totale non inferiore agli 800.000 euro che potrebbe superare il milione in caso di raggiungimento di alcuni bonus. L'eventuale trasferimento a Firenze permetterebbe al giocatore di misurarsi con un panorama diverso dalla Serie C e al Bari di valorizzare un componente di un vivaglio ricreato a partire da zero, tre anni fa. Se l'operazione dovesse andare in porto, le parti si aggiornerebbero alla fine della stagione. Se Mercurio avrà reso in Viola, la Fiorentina ne concretizzerà l'acquisto. Se il club toscano non eserciterà l'opzione di riscatto, Mercurio tornerà in Puglia. Discorso differente per Balla, Mussamane, giovane difensore 2003 aggregato al gruppo Biancorosso nel ritiro di Storo dopo aver vissuto l'esordio in prima squadra sotto la guida di Massimo Carrera. Il Napoli ha richiesto il giocatore per aggregarlo alla formazione primavera e il Bari sta valutando la possibilità di un'operazione in prestito secco.